morbide assetto alto non so nemmeno se ce l'ho ma adesso vediamo spagna monaco austria messico 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 non c'è signore e signori come facciamo stazione al domitavo me spagna Grazie. Grazie. 1,20m. Quanto basta? Ultimo? 9,20m. Buon divertimento e buona fortuna. Vai, vai. Devasto? No, no, chi è che mi ha spinto? Guarda qua che devasto. Ops, scusa. Nooo. Nooo. Ma sono 36 file. Nooo. 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 Devo liberare questi alante No Ok, no, va più veloce di me Grazie a tutti. Perveremo un bel po' di tempo ai box. 3 secondi di penalità. Cambio mosetto, cambio torno. Grazie a tutti. Grazie. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Oh, ha rotolato. Vai, che può essere un vantaggio. Attenzione. Vediamo chi la spunta. Sì, ma se mi viene addosso... Pure collisione. Non ho fatto niente. È sorpreso. Ok, il distacco è 12,0 secondi. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Eh, dai. Managia. Managia. Chia. Ma non. Si è un bel po' di tempo. Ma non. Ma non. Ma non. ben fatto, hai conquistato una posizione eh dai si dai, che più oddio, l'ho mancato a muro l'ho mandato a muro si è girato, che dire, chi è? ha rotto, questo era quello che mi ha doppiato attenzione, questi rivendono, possiamo guadagnare qualche altra posizione guardi mancano ancora tanti giri oh buono, ho sbagliato attenzione, mi volevo sorpassare sull'erba mamma mia attenzione, è vicinissimo proteggiamo l'interno non si butta, per soltanto fammi cazzo mamma mia, pure i doppiati si è buttata questa amica no, finisce la grassa però ci ha presi, ci ha presi eh davanti completamente purtroppo questa volta, non ho potuto fare proprio niente taglia, taglia, che prendi penalità vai mamma mia quello era il terzo posto, qua aveva qualche problema, non so riproviamo, non è finita mamma mia mamma mia non vale il kamikaze oh frittatona frittatona doppiaggi questo mi tambona mamma mia vediamo come c'è la grassa proviamoci a difenderci di nuovo che gara nooo è passato non completamente dai mettiamoci in scia e riproviamoci dai dai che non è finito non è finito sono qui sono qui nooo 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 non ci credo non ci credo nooo nooo non ci credo non ci credo